Musica Ben a tutti ragazzi qui parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News Spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un video riflessivo Perché come sicuramente avete visto dalla prima puntata della settima stagione E ovviamente questo è uno spoiler per chi non l'aveste vista Quindi se non avete visto la prima puntata della settima stagione Consiglio assolutamente di chiudere questo video Perché contiene ovviamente spoiler Quindi rimediate subito a guardarla Perché è stata una puntata veramente bellissima Quindi guardatela se ne avete ancora vista Ormai ragazzi è passata appunto una settimana dopo la morte dei due personaggi che conosciamo noi Glenn e Abram E la riflessione che ho avuto io e che hanno avuto la maggior parte delle persone È ovviamente quella che avete sicuramente visto dal titolo Delil è responsabile della morte di Glenn Adesso vi spiego cosa è successo ovviamente Se non l'avete appunto vi faccio un riassunto diciamo breve Per poi arrivare appunto alla risposta a questa domanda Allora cosa è successo? Praticamente Glenn ovviamente è stata dopo la vittima appunto di Negan Quindi è stata la seconda vittima di Negan La prima è stata Abram Dopo che Abram è morto ha costretto appunto Rosita A guardare la mazza insanguinata di appunto di Negan Quindi Lucille E l'ha costretta praticamente a guardare il corpo Che poi non l'ha fatto Però comunque sia la minacciata appunto di guardare quello che ha combinato Perché appunto ha esplicitamente detto che lui si è sacrificato per tutto il gruppo Quindi era diciamo cortesia da parte appunto di Rosita e di tutti gli altri Di guardare appunto il suo corpo Daryl non ci ha visto più Si è alzato Gli ha tirato un pugno in faccia Ovviamente Negan non l'ha presa proprio bene Perché la sua reazione è stata proprio uccidere Glenn Quindi ragazzi la domanda sorge spontanea Ovviamente questa cosa che ha fatto Daryl Ovviamente non l'ha fatta per causare la morte di un altro personaggio Fino a qui siamo d'accordo Perché un personaggio come Daryl Che diciamo fa questa cosa per provocare un'altra vittima Ovviamente non è entrato nella sua testa In quel momento stava pensando soltanto a chi aveva ucciso E quindi non ci ha visto più Era normale appunto che dopo che hai ucciso una persona E ovviamente un suo amico E dopo che hai costretto l'ex fidanzata A quasi guardare appunto il corpo di quello appunto di Abram In questo caso Daryl ha detto no Non lo posso accettare Si è alzato e ha tirato un pugno in faccia a Negan Perché come sapete Daryl ragazzi è un tenerone alla fine Ovviamente all'esterno pare una persona che non ha paura di nulla Che è proprio fredda Ma in realtà ragazzi Daryl non è così L'abbiamo conosciuto e lo conosciamo Quindi ovviamente è spontanea per Daryl una reazione del genere Difensiva da parte in questo caso di Rosita Ma difensiva dalla parte del gruppo Perché Daryl voleva semplicemente ragazzi Aiutare diciamo il gruppo in un certo senso E ovviamente questa cosa qui che appunto ha fatto Negan Di far guardare appunto il corpo a Rosita È stata una minaccia diciamo che a Daryl gli ha dato particolarmente fastidio Perché dopo quello che è successo Questa cosa ragazzi non l'ha accettata Nel senso che non l'avremmo accettata nessuno di noi Quindi penso che sia stata una reazione spontanea Che avremmo avuto chiunque di noi Quindi dare la colpa a Daryl per la morte di Glenn Secondo me è un po' un ingigantimento diciamo della questione Perché comunque Daryl si è un personaggio che comunque sia Lo conosciamo è così Però ovviamente non si aspettava una reazione del genere da Negan Forse se l'aspettava però comunque Insomma pensava che lui poi alla fine avrebbe ucciso Perché come avete visto dopo che gli ha tirato quel pugno L'hanno preso e l'hanno portato avanti a Negan Ovviamente Negan poteva farlo fuori ma no Non l'ha fatto perché comunque vedeva forse in Daryl qualche potenziale Oppure non voleva ucciderlo proprio per questa ragione qua Ma voleva fare di più Voleva uccidere un personaggio che prima si era ribellato a Negan Quando stava per uccidere Maggie E quando gli aveva detto appunto Negan Dovrei porre fine alle tue sofferenze A Maggie appunto E allora Glenn si è alzato e ha detto no non farlo Allora questa cosa magari Negan se l'è ricordata Ovviamente ha voluto scegliere Glenn per quel motivo Non è stata una cosa casuale Ovviamente era tutto diciamo programmato E forse aveva programmato anche una reazione da parte di qualcuno del gruppo Quindi a mio parere comunque le due vittime ci sarebbero sempre state Non lo so Ovviamente questa è una mia impressione Però dare la colpa a Daryl per una cosa del genere A mio parere è un po' una cosa esagerata Ecco a mio parere è così In ogni caso appunto fatemi sapere voi cosa ne pensate qui giù nei commenti Perché comunque ragazzi mi interessa la vostra opinione Per far capire appunto a me Dove siete schierati tra virgolette Dalla parte di Daryl oppure dalla parte appunto di Contro Daryl Perché comunque è un personaggio amato Daryl Quindi E comunque piace anche a me Di certo non è il mio personaggio preferito Però in questo caso lo voglio giustificare Perché non ha senso nel senso prendersela con Daryl Per una reazione spontanea che voleva soltanto aiutare Quindi a mio parere ragazzi è una cosa che avremmo fatto veramente tutti quanti E in ogni caso fatemi appunto sapere voi cosa ne pensate qui giù nei commenti di questa cosa Quindi commentate appunto con la vostra opinione Quindi nulla ragazzi Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale se non è ancora fatto Per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead Citare se lasciate un mi piace Perché mi aiutate davvero tantissimo E vi ringrazio per il enorme supporto Passate nella pagina Facebook e nel profilo Instagram Tutti i link li trovate nella descrizione Quindi nulla Noi ci sentiamo in un prossimo video Un saluto da Foxhound e The Walking Dead News, spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti